Sono davvero grato al Signore di avere questa bella occasione di condividere con voi questa celebrazione e anche qualche pensiero alla luce di una parola che non poteva essere più appropriata come spesso accade o comunque sempre in qualche modo è così che la parola illumina la nostra vita ma anche illumina in particolare questo nostro incontro e anche ci aiuta a comprendere quali sono le vie da seguire. La liturgia della parola ci mette di fronte ad uno snodo centrale della vicenda evangelica Gesù usando uno strumento che oggi va molto di moda il sondaggio d'opinione pone i suoi discepoli davanti alla questione della sua identità per giungere poi ad interpellarli direttamente voi chi dite che io sia? Gli autori sinottici inseriscono tale vicenda al centro della narrazione evangelica perché da questo momento in poi il cammino si fa deciso verso Gerusalemme e la manifestazione della sua identità come Messia viene a coincidere con l'annuncio dell'evento pasquale che si compirà nella città santa come narrato nei versetti che seguono. Non si può comprendere il significato di questa prima parte senza collegarlo anche ai versetti successivi. Identità e missione sono pertanto inseparabili se vogliamo comprendere chi è veramente il figlio dell'uomo. Ciò che Gesù dice di essere si manifesta attraverso ciò che fa e le opere da lui compiute rivelano la sua identità. questo vale per chiunque entri in relazione con lui. Il dinamismo proprio della fede cristiana risulta evidente anche dalla sequenza narrativa per cui alla professione di fede fatta da Pietro sotto l'ispirazione del Padre Celeste tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente segue il conferimento di una missione fondamentale per la vita dell'Apostolo e per il futuro della Chiesa. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. È importante comprendere che la relazione con Cristo mentre ci consente di approfondire la sua identità ci rende partecipi della sua missione salvifica. È pertanto chiaro che dalla professione di fede discende sempre anche un impegno e un coinvolgimento missionario. Professare e testimoniare che Gesù è il Messia in quanto figlio di Dio e figlio dell'uomo ci fa capire che nella sua persona sussiste la pienezza dell'umanità e della divinità. Un tale incontro inoltre ci consente di recuperare lo spessore della nostra esistenza sospesa tra lo smarrimento e la perdizione causate dal peccato e l'anelito alla pienezza della vita divina frutto della grazia salvifica donatici nella Pasqua dal Signore Gesù. Entrando in relazione con Lui conosciamo meglio la nostra umanità e la nostra vocazione alla vita soprannaturale. Come rileva in modo efficace Pascal, cito, la conoscenza di Dio senza la conoscenza della propria miseria genera l'orgoglio. La conoscenza della propria miseria senza la conoscenza di Dio genera la disperazione. La conoscenza di Gesù Cristo sta tra l'una e l'altra perché in essa troviamo Dio e la nostra miseria. Prendo spunto da Pascal perché il 19 giugno scorso abbiamo celebrato i 400 anni della sua nascita e Papa Francesco l'ha voluto ricordare con una bellissima lettera Sublimitas et miseria hominis che vi invito a leggere. Potremmo meglio esprimere dal punto di vista teologico questo aspetto fondamentale dell'incontro con Cristo attraverso la riflessione del Concilio Vaticano II così come fa anche il catechismo della chiesa cattolica. Cristo proprio rivelando il mistero del padre del suo amore svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. Riconosciamo tutti il passaggio della Gaudium et Spessa al numero 22. È in Cristo immagine del Dio invisibile che l'uomo è stato creato ad immagine e somiglianza del creatore. È in Cristo redentore e salvatore che l'immagine divina deformata nell'uomo dal primo peccato è stata restaurata nella sua bellezza originale e nobilitata dalla grazia di Dio. È un passaggio del catechismo della chiesa cattolica. Così sempre attingendo al genio filosofico e spirituale di Pasquale è possibile affermare che Gesù Cristo è lo scopo e il centro a cui tutto tende. Chi lo conosce conosce la ragione di tutte le cose. E a questa conoscenza sempre più profonda che dobbiamo tendere non basta una professione formale solo dottrinale per quanto perfette. Occorre entrare nel mistero e nel dinamismo proprio dell'amore divino come insegna San Paolo nella seconda lettura che abbiamo ascoltato. Oh profondità della ricchezza della sapienza della conoscenza di Dio quanto insondabili sono i tuoi giudizi e inaccessibili le tue vie perché da lui per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. Pensiamo un momento a come nella nostra vita. Questo processo si è attuato. Abbiamo cominciato con vissuti familiari ed ecclesiali legati all'iniziazione cristiana e in parallelo con qualche nozione di catechismo che ci hanno condotto ad un primo incontro con Cristo. Poi via via in un crescendo di esperienze concrete abbiamo capito qualcosa di più del mistero di Cristo comprendendo meglio abbiamo amato di più. Amando e servendo di più si è anche ampliata la nostra conoscenza di Cristo e della Chiesa. In questo processo spesso complesso e imprevedibile perché guidato dallo Spirito Santo e intrecciato con la nostra libertà cresce la comprensione dell'insondabile mistero di Cristo. Conoscenza e amore, professione di fede e impegno missionario vanno di pari passo e alimentano il circuito virtuoso dell'esperienza spirituale ed ecclesiale. Non basta la sola conoscenza e neppure il solo esercizio della solidarietà ma come ci ricorda San Paolo agendo secondo verità nella carità cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui che è il capo Cristo. Qui però emerge il grande problema del nostro tempo perché come abbiamo riscontrato anche in queste nostre giornate di riflessione e di incontro, di confronto, assistiamo alla crescente frattura tra la professione di fede e una certa religiosità di facciata e la reale partecipazione alla missione di Gesù e della sua Chiesa. Ci troviamo di fronte ad uno dei drammi più rilevanti dell'esperienza religiosa contemporanea, la separazione tra la fede e la vita, come attestano tutte le analisi più recenti. Basta vedere le riflessioni di Armando Matteo sulla prima generazione incredula, di Riccardi nel volume La Chiesa brucia, crisi e futuro del cristianesimo, le indagini di Cipriani, l'incerta fede, i commenti di Garelli, gente di poca fede, le riflessioni di Luca Diotelevi, fine corsa, la crisi del cristianesimo come religione confessionale, Brunetto Salvarani, senza Chiesa e senza Dio e potremmo continuare a lungo, anche supportati dalle riflessioni di tanti nostri aderenti all'azione cattolica. Sperimentiamo in modo sempre più evidente, e ne vediamo le molteplici conseguenze, come una certa iniziazione cristiana, fatta solo di nozioni, conduce i bambini a professare la fede in modo formale ed esteriore, per cui di fatto non segna la vita e non attiva alcuna missione. Si continua ad affermare che il battesimo, con il battesimo, si è uniti a Cristo e si diventa partecipi della sua morte e risurrezione, ma poi l'agire, le scelte, gli stili di vita non rivelano affatto un dinamismo pasquale e non assumono i caratteri di una missione testimoniale. Si dice che siamo parte del corpo di Cristo e che siamo chiamati a edificare ciascuno per la sua parte quella Chiesa fondata sulla pietra angolare che è Cristo stesso di cui Pietro è fatto garante, ma molti si dimenticano che occorre essere davvero pietre vive o perose all'interno della comunità ecclesiale nella società e non schiavi di quella egologia, espressione quanto mai efficace evocata ieri, che sembra essere il vero mantra, ossia pensiero dominante del nostro tempo. Catechesi, professioni di fede, vissuti religiosi, svuotati della loro componente di reale sequela e di concreta missionarietà, finiscono per diventare evanescenti e conducono all'abbandono della fede e della vita ecclesiale o ad un'appartenenza solo anagrafica. Ma noi non dobbiamo e non possiamo rassegnarci. Ce lo impedisco la nostra fede in Cristo, sincera e concreta, la nostra esperienza ecclesiale, faticosa ma entusiasmante, come abbiamo sperimentato anche nella giornata di ieri, la nostra appartenenza all'azione cattolica, un vero dono di grazia, come abbiamo visto la prima sera, che ci ha immessi nel dinamismo sorprendente e affascinante della gratuità e del servizio, veri contrassegni della carta d'identità del cristiano, vi riconosceranno da come vi amate. Se molte porte sembrano chiudersi nell'esperienza di fede delle donne e degli uomini del nostro tempo, ci confortano e ci incoraggiano le parole di Gesù a Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli. Conferma di quanto già accaduto a Eliachim e narrato nella prima lettura che abbiamo ascoltato. Queste chiavi sono affidate in particolare a Pietro e ai suoi successori, ma sono anche nelle nostre mani, nel sensus fidei di tutto il popolo di Dio. Abbiamo una grande responsabilità, anche dalle scelte e dalla testimonianza della nostra associazione, dipende se certe porte si chiudono o si aprono per gli uomini del nostro tempo. Quanto abbiamo vissuto in questi giorni ci ha reso ancora più consapevoli che non ci manca la chiave per aprire la porta di un impegno serio e coraggioso del laicato nell'ottica di una vera e profonda corresponsabilità di tutti nella Chiesa. Che possediamo la chiave per contribuire ad una crescita della sinodalità e della comunione, della collaborazione all'interno della comunità ecclesiale. Che possiamo aprire la porta del dialogo e del confronto con le realtà più diverse in ambito religioso e civile, promuovendo giustizia, solidarietà e pace. Che dalla ricca tradizione associativa e dal cammino unitario e intergenerazionale ci è data la chiave per spalancare le porte della speranza e della profezia. Lasciamoci quindi guidare con docilità dalla creatività dello Spirito Santo, proprio come stiamo facendo in queste nostre giornate. E dando piena attuazione al progetto educativo possiamo essere fiduciosi che riusciremo ad aprire molte porte. Vorrei concludere proprio con un passaggio di questo testo, il progetto formativo, che ben riassume quanto ho cercato di dire. Cito, ciò che è accaduto ai primi discepoli accade ai discepoli di tutti i tempi. Non si può dire di sì e continuare a vivere come prima. Questo spinge immediatamente alla condivisione del dono ricevuto attraverso la missione. La risposta al dono di Dio dà un'impronta nuova all'esistenza perché impegna ad ogni età all'ascolto e alla preghiera, al discernimento che rende liberi, a vivere ogni giorno la novità dell'esistenza e a far trasparire nella vita quotidiana i tratti di un'umanità realizzata e piena. Capitolo 6, proprio sull'articolazione del progetto formativo. Da questo nostro sogno, che è il sogno di Dio, nasce e prende forma la Chiesa che sogniamo. Amen.